Ciao amici di Dei per Viaggiare dal Nika Island Resort & Spa. Stiamo entrando nel nostro museo, è stato costruito per raccontare parte della storia delle Maldive e del Nika. Il Nika è stato costruito nel 1983 e tramite immagini, foto e reperti archeologici vi raccontiamo la nostra storia. Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! A presto! Grazie a tutti!